La End Houses nasce nel 2020, poco prima della pandemia del Covid-19 che ci ha assegnato particolarmente un po' come tutte le aziende di questo settore. Ci siamo fatti forza e da quest'anno, il 2023, abbiamo iniziato un progetto ancora nuovo rispetto a quello che avevamo cominciato nel 2020, implementando tutto ciò che è la crescita e lo sviluppo di un nuovo portale, ovvero il nostro sito endhouses.it, dove abbiamo deciso di inserire tutte le strutture ricettive che fanno parte della nostra attività per commercializzarle e per gestirle in toto. Questa gestione è frutto di un'attività di property management che è l'innovazione secondo il nostro punto di vista del settore turistico, poiché soprattutto grazie all'influenza del mercato americano e nord europeo abbiamo la possibilità di ricevere un gran numero di turisti che ci ha fatto aprire gli occhi un po' su quello che è la richiesta e le domande dei turisti per i bisogni che dobbiamo soddisfare. Per puntare all'innovazione secondo noi l'importante è avere delle radici profonde per quello che è il passato e per quello che è la nostra tradizione, soprattutto per la nostra terra. E di questo ovviamente ne possiamo fare tesoro grazie all'esperienza che ci accomuna, anzi che fondamentalmente mio padre inserisce all'interno dell'attività, è il forte entusiasmo di noi giovani che siamo sempre pronti ad andare avanti. Con AI Houses abbiamo la possibilità di mettere in campo la gestione e la commercializzazione di alcuni prodotti. Prima fra tutti quelli che più interessano ad AI Houses sono le strutture di livello di segmento alto come le ville al mare, piuttosto che gli appartamenti in palazzi storici. Diventa per noi un cavallo di battaglia poter portare avanti l'attività implementando sempre più strutture. Abbiamo iniziato con Palermo e Provincia e contiamo nell'arco di tre anni di riuscire ad arrivare a coprire buona parte del territorio siciliano con almeno un centinaio di strutture. E grazie all'esperienza del sottoscritto ma anche della gran voglia di crescere e con l'innovazione dei giovani e quindi di Alberto che riusciremo a far decollare questa AI Houses perché il connubio premia, premia l'esperienza così come premia il nuovo modo di fare turismo e di vedere la programmazione con la possibilità di mettere a frutto con i mezzi che ci sono oggi rispetto ad anni fa il vero sviluppo della società. Siamo qui alla BIT 2023, ne abbiamo fatte di BIT almeno una ventina. Devo dire che quest'anno la BIT è una fiera che segna il passo della ripartenza, della ripartenza del turismo che è stato frenato a causa della pandemia per almeno un paio d'anni e oggi devo dire che con questa fiera c'è una ripresa vera che si tocca con mano. Noi siamo qui espositori, abbiamo avuto parecchi contatti con parecchi tour operator e con alcune strutture ed è servito tanto questa fiera per cercare di far crescere il marchio AI & AUDES.